su radio isab c'è colpo grasso a cura della dottoressa silvia di tiglio ragazzi buongiorno e ben ritrovati in questo appuntamento settimanale oggi parleremo di spuntini gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio andrebbero fatti oppure no la risposta è dipende gli spuntini andrebbero fatti solo in caso di reale necessità ovvero se avvertiamo molta fame tra un pasto e l'altro ad esempio per chi fa colazione molto presto rispetto all'ora di pranzo o se siamo sportivi e pratichiamo esercizio fisico a tal punto di avere un reale bisogno di energia nel pre workout altrimenti se andiamo a comporre in modo completo e bilanciato i pasti principali è preferibile non introdurre altro cibo tra un pasto e l'altro questo perché per ridurre i livelli di insulina e permettere riposo l'intestino favorendo la completa digestione del pasto precedente e favorendo una buona eliminazione di scorie evitando ingombro e sovraccarico intestinale e voi siete abituati a fare gli spuntini oppure no inviateci un messaggio e fateci sapere quali sono le vostre abitudini al 371 48 14 966 su radio isab c'è colpo grasso a cura della dottoressa silvia di tiglio